Mi ricordo che ho perso la libertà nel 2012 e che tuttora esco un'ora a settimana per fare la mia esecuzione penale e sono chiuso dentro una casa, quindi la mia vita per forza non ce l'ho. Ho finito di scrivere un libro molto bello, si chiama Come ho inventato l'Italia, le prime tre parole sono queste, io sono Dio, io non credo di essere diventato personaggio, io sono un atto personaggio. Prima di tutto non credo di aver distrutto me stesso, anzi perché qua sono sano, anzi non credo di essere stato migliore di adesso, non sono più quello di prima, non sarò mai quello di prima, ma per un semplice motivo candida, perché sono stanco, sono veramente stanco, sono stanco, non ce la faccio più, non ho la vita, non ho la libertà dal 2012, addirittura forse per alcune cose, ma è una cosa che non dico, gli arresti domiciliari sono drammatici perché non hai neanche l'ora d'aria, io non ho l'ora d'aria e quindi candida ti dico la verità, anche se sono abbronzato, fisicamente sto bene, vivo in una casa molto bella, ho l'amore di mio figlio, ho l'amore di tantissime persone, non sto bene perché sono veramente veramente stanco e vorrei ritornare alla vita, vorrei ritornare a poter uscire a bere un caffè, a poter andare in una palestra a allenarmi, ma rispetto le regole e quindi accetto le regole e scontro i miei domiciliari.